Siete pronti per il Natale? Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, avete capito bene, la domanda è siete pronti per il Natale? Cosa? C'è caldo? Avete ancora le maniche corte? Ma come? Io mi sono messo un bel maglionazzo per simulare l'autunno in modo da poter meglio introdurre un video dedicato finalmente al Natale il primo video del Natale 2022 e cominciamo scintillando glitter a go go per le nostre decorazioni low cost bellissime e facili per l'albero di Natale e sì, cominciamo ad addobbare il nostro alberello con pochi soldi e molto gusto e allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la decorazione con il rotolo di cartigenica come si fa ecco l'occorrente per creare le nostre decorazioni di Natale le prime del Natale 2022 evviva! cominciamo col glitter il mio Natale come sempre sarà dorato e rosso quindi glitter dorato e glitter rosso ma voi scegliete quello che fa di più per il vostro Natale quindi dell'acrilico dorato e rosso come il glitter che abbiamo scelto righello e matita un'anima di rotolo di cartigenica o mezz'anima di scottex per ognuna delle nostre decorazioni della colla vinilica un paio di forbici un pennellino un recipientino con dell'acqua per diluire il colore e poi del nastrino per appendere le nostre decorazioni se vorrete personalizzare le decorazioni potete farlo con una penna in gel o una penna glitter scrivendo sopra quello che più desiderate iniziamo subito come prima cosa prendiamo le anime della nostra carta igienica e l'acrilico e stendiamovi sopra un po' di acrilico quindi con un po' d'acqua bagniamo appena appena il pennellino e stendiamo tutto il colore ben bene su tutta la superficie del rotolino è necessarissimo? no ma fa venire il lavoro più rifinito fa la differenza tra un lavoretto da bambini e un lavoro più adulto una volta asciugati i nostri rotolini pieghiamoli a metà così molto velocemente e prendiamo delle misure allora facciamo delle striscette guardate da due centimetri ok? quindi uno due tre quattro da ogni rotolino vengono fuori quattro striscette ma noi ne adopereremo soltanto tre prendiamo le forbici quindi tracciamo la linea e tagliamo le striscioline la mia ancora è fresca voi fatele asciugare completamente prendiamo tre delle quattro striscioline quelle venute un pochino meglio e tagliamole a coda di rondine da ambo le parti uno e due lasciando però un millimetro vedete? qui vi avvicino uno e due deve stare chiuso ma tagliato facciamo così per tutti e tre i nostri le nostre striscette faccio così anche con gli altri rotolini facciamo la stessa cosa anche con i rollini rossi qua ho i miei rollini gialli fatti a striscioline adesso stessa cosa due centimetri e andiamo adesso prendiamo un pochino di vinavil adesso è giunto il momento di ricoprire tutto di glitter e allora mentre Gabriele e Enzo litigano di là per i compiti io mi diverto con il glitter non è fantastico? allora ricopro tutta la parte dorata con un po' di colla vinilica non tantissima spennello molto bene me non ne metto prima si asciugheranno questo è un monito che dico a me stessa più che a voi immergo da una parte e dall'altra e faccio prendere ben bene tutto il cartoncino con il glitter ok una volta asciugati i nostri pezzettini possiamo iniziare ad assemblarli insieme mettiamo un punto di colla sulla pancia di un pezzettino così e su di esso ne incrociamo un altro voilà e lo blocchiamo così a questo punto sulla pancia di quest'ultimo mettiamo un altro punto di colla facciamo scivolare dentro tenendolo fermo un altro pezzo e voilà inseriamo un altro pezzettino così li metto a faccia in giù così che loro asciughino ne facciamo uno rosso allora preferisco farlo con una colla non a caldo cioè che non diventi subito solida che non solidifichi subito semplicemente per il fatto che così posso bilanciare ben bene la distanza dei pezzi l'uno dall'altra vedete e creare una stellina più armonica prendiamo adesso dei pezzettini di laccetto del colore delle nostre stelline e passando per una delle due codine di una parte della stellina facciamo semplicemente un nodino tagliamo ben bene l'eccesso facilissime bellissime tenetevi pronti perché su arte per te è cominciata la stagione del natale tutti pronti per brillare con i nostri tutorial di natale e allora ragazzi preparate barattoloni di glitter e tanta fantasia per il natale più scintillante che ci sia vi lascio le foto e ci vediamo dopo ciao ciao che belle scintillanti le nostre stelle immaginatele sull'albero di natale ad infiocchettare ogni ramo sono un po' un fiocchetto una stellina fiocchetto diciamo così sono tanto facili da fare possono essere fatte anche dai bambini dai ragazzini con molta molta semplicità e addorneranno il vostro natale con grande luminosità bene ora la smetto di parlare in rima come i pazzi o come poeti dipende dipende dalla importanza delle rime e vi spingo tutti a cliccare su iscriviti pigiare la campanella perché a natale la campanella ci sta sempre bene e per non perdere così i futuri video dedicati al natale venirmi a trovare sui miei altri canali ombretta e due cuore una k i miei altri canali youtube due cuore una k il canale di cucina che ho insieme a Gabriele è mio marito e ombretta il canale di lifestyle e chiacchiere poi vi invito su facebook tutti quanti dove ogni giovedì sera c'è il mega corso di disegno e in più già che è arrivata la christmas season la stagione di natale qui volano glitter viuta di tutto vi invito in libreria a cercare il mio ricettario dell'arte il mio libro perfetto da regalare a natale per tutti i creativi avete un amico creativo ricettario dell'arte avete un amico a cui piacciono le paste modellabili ricettario dell'arte avete un amico a cui piace creare da solo i propri colori i propri materiali questo è il libro che fa per loro ma anche per voi non lasciatelo tra gli scaffali della libreria portatelo a casa vostra sotto i vostri scintillanti alberi di natale grazie se lo farete e mi raccomando aspetto un vostro feedback voglio sapere cosa ne pensate non mi rimane che andarmi a scrollare di dosso un quintale di glitter salutarvi e darvi appuntamento sempre qui per un prossimo video creativo da ombretta ed arte per te è tutto buona preparazione al natale e già possiamo cominciare a dirlo ci vediamo al prossimo video ciao ciao